Vi devo dire una cosa bellissima, praticamente il Papa è tornato dal suo viaggio e pare che dopo ogni viaggio diviene qui alla Madonna Santa Maria Mangione a ringraziare la Madonna e quindi io Corretta eravamo praticamente qui e l'abbiamo visto e Corretta riuscita anche ad avere la benedizione, è stato bellissimo, bellissimo Grazie